Ebbene, benvenuti ragazzi, benvenuti a tutti voi, benvenuti al Bar del Calcio. Faccio subito una premessa importante perché spero di collocare nella programmazione a breve termine questo video, però abbiate la pazienza e un minimo di serenità per dare un contesto a quello che sto per dire in questo video che già ve lo dico sarà molto lungo perché merita massima attenzione del periodo storico. Nel momento in cui registro questo video sono le 11.47 del 31 di agosto. Il mercato ha chiuso 11 ore fa. Premessa intro. Cari amici, ben ritrovati a tutti voi. Per prima cosa vi invito a mettere un bel mi piace al contenuto che state per vedere, a condividerlo qualora lo meritiamo, mi raccomando, e soprattutto vi invito a prestare un minimo di attenzione in descrizione ad ogni video. Trovate dei link riepilogativi all'interno del quale in uno di essi trovate tutte le informazioni riguardanti il Bar del Calcio, tutte, 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 e nell'altra, qualora ne siate interessati, trovate la possibilità per acquistare uno dei miei libri. Ti ricordo inoltre il nostro sito velodicoqui.com all'interno del quale, come potete vedere, una volta entrati nel sito, cliccate sul Bar del Calcio, cliccate di nuovo sul Bar del Calcio e si apre la sezione dedicata a tutto ciò che riguarda appunto il mondo scritto del nostro canale con opinioni personali e di tutti coloro di voi che volessero esserne parte integrante scrivendo articoli. Sulla destra, attenzione, molto importante, cliccate il tasto Segui per entrare a far parte dei fedelissimi della community. Allora, come ben sapete, a me non piacciono le cose costruite, quindi io, proprio per mia natura, spiggio rec e parto col video, senza farmi troppi problemi, non mi piace costruire le cose, non mi piace proprio costruirle per niente proprio. In questo caso, però, ve devo dire la verità, come stanno le cose. Visto che è un video molto articolato e io tendo spesso a dimenticarmi dei passaggi, mi sono appuntato le cose di cui andremo a parlare e vi dico chiaramente che ho tre pagine di cose delle quali parlare, quindi vi potete rendere conto da soli, quindi di quale video, di quale durata, di quale portata di video vi aspetta nel vederlo. Quindi se avete la pazienza di vedere questo video, bene, altrimenti, ve lo dico sinceramente, sperando che voi abbiate rispetto per il tempo che ci metterò enorme per fare questo video, perché sarà un tempo enorme, enorme, per pubblicarlo, per lavorarlo, le solide cose che vi ho sempre detto. Me lo avete chiesto in tanti, io mi sono preso una nottata di riflessione prima di fare questo video, perché se l'avessi fatta ieri, a caldo, un video del genere, credo che avrei rischiato seriamente di chiudere il canale. E quindi volutamente mi sono sbollentato, ho passato la nottata e quindi oggi ho un po' più di lucidità, nonostante tra poche ore si gioca la partita della Lazio, ho un po' più di lucidità per parlare di calcio mercato. È il video, ve lo dico subito, all'interno del quale darò il mio giudizio sul mercato fatto dalla Lazio. Mentre vi faccio questo video ci sono circa 32-33 gradi, quindi il gesto che sto per fare è simbolico, ma è molto forte, perché mi metto al collo, guardate che bella, una sciarpa di lana, di lana eh? Non so se si vede, di lana. A 33 gradi mi metto la sciarpa della Lazio al collo, un gesto fortemente simbolico, voglio che appaia ai vostri occhi come un gesto fortemente simbolico. Perché? Perché me ne frego del caldo, perché adesso quello che conta, so questi colori. Mi dite chi vi ha nel tempo dato i preziosi insegnamenti di amare questi colori? Tanti di voi l'hanno raccontato, di amare questo simbolo per il quale ci scorniamo, per il quale si gioisce, ci si addolora, ci si incazza, anzi un'altra premessa importante, lo dico ai tanti nonni, nonne, papà, mamme, fratelli e tutti gli altri, è un video che sconsiglio ai minorenni, perché potrei nel corso di questo video, comunque in fase di giudizio, lasciarmi andare a qualche parola di troppo, anche se vi prometto ce la metto tutta. Quindi chiedo scusa ai bambini, ai ragazzi minorenni, ma a me delle visualizzazioni non me ne frega una mazza, vi invito ad andare a vedere qualcos'altro, perché questo video non è idoneo a voi, non è adatto a voi. Procediamo con questo cammino, mi metto la sciarpa al collo, provisco grondare di sudore, perché adesso è il momento di essere laziali. Guardatemi bene negli occhi, è adesso il momento di essere laziali. Bello quando sei vincito, quando arrivi secondo in classifica, quando vinci una coppa, quando te punti, quando te fai bello. È più da laziali adesso, nei momenti difficili, dopo quello che abbiamo passato in questi ultimi due mesi. Cerchiamo di essere un po' meno lotitiani in atteggiamento, no? Apparire davanti alle telecamere, farsi intervistare, farsi belli quando tutto va bene, no? Per poi nascondere la capoccia sotto la sabbia quando le cose vanno male perché non hai le palle di sporti, di prenderti le tue responsabilità, chiaramente, no? Ecco, noi dobbiamo andare dritti come treni, dobbiamo difendere spudoratamente la nostra fede, perché la Lazio non è l'odito, grazie al cielo. La Lazio, lo ribadisco ancora una volta, non è Fabiani, grazie al cielo due volte. La Lazio siamo noi, la nostra storia, che dobbiamo difendere con tutti noi stessi e tramandarla il più possibile a quelli che sono le persone che noi amiamo nella nostra esistenza. Questo diventa fondamentale. Ma partiamo con questo video di disamina, vi spiego come è strutturato questo video. Andremo a ripercorrere questa folle estate di calciomercato della Lazio, l'andremo proprio a ripercorrere e parto dalla fine annunciandovi qualcosa che è ancora di più scandaloso e che ancora una volta conferma quanto con i fatti questa società prende per il culo i propri tifosi. Lo ribadisco ancora una volta, quanto questa società prende per il culo i propri tifosi. Perché la società, nei suoi uomini di fiducia, che possono essere qualche giornalista di qualche quotidiano qua e là, che tra l'altro ha avuto modo di conoscere, fa giungere voce, udite udite, fatevi forte e resistete per favore, non lasciatevi andare, di essere profondamente soddisfatta e contenta del mercato fatto. Pensate un po' a questa società vergognosa e indecorosa come mette i giornalisti nelle condizioni di lavorare. Io sono una persona corretta. Oggi avrei voluto fare l'eccezione di citare il giornalista, che è un mio amico, che sta facendo circolare queste voci tramite i quotidiani di questa profonda soddisfazione della Lazio per il mercato fatto. L'ho contattato in privato, avevo deciso di andare contro il mio modus operandi, di citare una delle mie fonti, perché le fonti, la regola sacra, che non vanno mai citate, al contrario di quello che qualcuno può pensare. E pensate un po', questo giornalista di professione, quindi uno che campa con questo lavoro, quindi uno che campa anche con la Lazio, laziale sfregatato su questo nessuno può metterlo in dubbio, mi ha detto, Manuel, preferisco di no. Preferisco di no, Manuel. Non mi citare, io ti ringrazio se è stato corretto, ma per favore non mi citare, perché mi metteresti in una situazione ancora più complicata rispetto a quello che già c'è. Voi pensate, un giornalista professionista, che ha anche la fortuna di essere difoso della Lazio, che segue la sua Lazio, che è consapevole del fatto che la Lazio esce con le ossa rotte da questo calciomercato, dover comunque raccontare, perché è la sua professione, quello che la società fa trapelare, ossia di essere profondamente soddisfatta del mercato fatto, il che oltre all'atto pratico di quello che la Lazio non ha fatto in questo calciomercato, è una doppia presa per culo per tifoso. Vi ribadisco, non me sto inventa niente, la Lazio è profondamente soddisfatta del mercato fatto, ritiene di aver centrato tutti i suoi obiettivi. Vi rendete conto? Piccola pausa. Eccomi qua, ho dovuto bere un goccio d'acqua. Allora, manteniamo la calma noi tifosi, è il primo appello che faccio, per questo in maniera simbolica mi sono messo sta sciarpa di lana al collo. Pensiamo a questo, manteniamo un minimo di lucidità, sforziamoci di mantenere un minimo di lucidità, anche se è durissima, soprattutto oggi, perché abbiamo raggiunto un culmine, del quale poi vi parlerò. Allora, cominciamo con, per prima cosa, chiederci, società Lazio, quali obiettivi ti poni, ti sei posta, ti è riposta, in questa sessione di calciomercato? Possiamo dire, a mercato chiuso da poche ore, poi magari lo andremo ad analizzare ancora più nel dettaglio in altri video, che la Lazio si era posta all'obiettivo di fare due cose. Se non puoi aumentare gli introiti, segui la strada più facile, che è quella di abbattere i costi, e i costi principali per la Lazio stanno tutti concentrati, identificati in un'unica voce, ingaggi dei calciatori. Allora la Lazio ha detto, non pensiamo, ma che sta scherzando, non pensiamo di aumentare gli introiti, andando a procacciare nuovi partner commerciali e quant'altro, abbattiamo i costi, anche perché, l'ho fatto un video tempo fa, in cui vi spiego il fair play finanziario, cosa impone alle società, c'è l'obiettivo, entro il prossimo anno, che ogni società, in base a quelli che sono i suoi introiti, non può dedicare più del 70% dei suoi introiti per le uscite. Guadagni 100%, tu puoi spendere al massimo il 70%. Bene ragazzi, la Lazio si è fatta prendere dall'ansia, l'ho dito tradotto, si è cagato addosso, e l'iggio al dovere, al rispetto delle regole, ha detto, io l'obiettivo del 70% lo voglio centrare quest'anno, nemmeno st'altro anno, quest'anno lo voglio centrare. Io vigliacamente, mi riparo dietro, a questa situazione del fair play, per fare il mercato che piace a me, ridurre in maniera drastica i costi, e così la Lazio ha distrutto il monte ingaggi, l'ho abbassato di oltre 20 milioni di euro, andando a centrare un obiettivo che magari in maniera più graduale avrebbe potuto centrare anche il prossimo anno. Perché questo tipo di problema non ce l'ha solo la Lazio, ce l'hanno tutte le squadre, anche la Roma per esempio, anche la Roma ha cercato di liberarsi degli ingaggi più alti possibili, ma lo faranno tutti. La Lazio l'ha voluto centrare subito, questo obiettivo. E ha cacciato via, si è liberata, giocando di sponda, ricordate questa cosa, su questo argomento, anche i suoi principali giocatori. Altro piccolo passo indietro. In realtà avevo già fatto un video abbastanza chiaro, però Matteo, nella diretta di ieri, l'amico Matteo mi ha detto Manuel, per fare una ricostruzione più corretta sarebbe opportuno ripartire dall'estate scorsa, dai disastri della Lazio dell'estate scorsa. Un anno fa la Lazio si presentava al via del campionato con un secondo posto in classifica, una Lazio che era strapiena di soldi, perché aveva appena venduto Milinkovic a 40 milioni di euro, e stava per incassare almeno 50 milioni di euro dalla Champions League. Una Lazio che mai aveva tutti sti soldi in saccoccia, e che mai come l'anno scorso, aveva la ghiotta occasione di andare a entrare in una nuova dimensione, più grande, proprio come livello di giocatori standard di andare ad acquistare. Sarri era riuscito nell'impresa di portare la Lazio, il tanto vituperato e da tanti di voi contestato Sarri, in una dimensione superiore. L'obiettivo della Lazio dell'anno scorso, molti l'anno venavano anche tra le papabili per lo scudetto, ma erano le persone estremamente ottimiste, era quello di arrivare in Champions per la seconda volta consecutiva. Questo sarebbe stato lo step che avrebbe permesso alla Lazio di svoltare nella sua storia recente. In termini economici, quello che ha fatto l'Atalanta, che ora non acquista più giocatori da 7, 8, 10 milioni di euro, ora acquista giocatori da 30 milioni e lo fai in 2-3 ore al volo. Ma, ahimè, c'è qualcuno che guida la società che si è cagato addosso, si è cagato addosso, ha avuto paura e ha detto nonno, fermi, qua sta lievitando tutto troppo. Ho preso Sarri per una reazione, Sarri non è stato preso volutamente dalla Lazio, Sarri è stata la reazione opposta a Murigno appena sbarcato a Roma tre anni fa, parlamoci chiaro. Ho preso Sarri, però poi mi rendo conto che Sarri era troppo, stipendio troppo alto per l'allenatore, mi chiedeva giocatori troppo importanti, sarebbe salito troppo il monte in gaggi, io non so bono a procacciare nuovi partner commerciali perché sono un incapace e quindi non posso andare in quello, ho paura di fare questo passo. A me sta comoda, attenti, sta comoda, è più a mia misura, attenti un'altra volta, a mia misura a Duomo, gestire una Lazio media che galleggia tra l'Europa League ogni tanto, una volta ogni tanto, senza esagerare l'Europa League, quindi la Champions, quindi facendo sponda sulle regole del fair play finanziario che ci saranno imposte 90%, 80% e 70% l'anno prossimo, ve l'ho già spiegato in un video, ve lo vado a ribadire, andatevelo a vedere, io ne approfitto per ridimensionare la Lazio in maniera pesante. Quindi l'anno scorso inizia tutta una gestione ridicola e imbarazzante della Lazio. L'anno scorso non accetti la cessione del mobile a 30 milioni d'euro e lo ribadisco anche oggi perché vedo il mobile era da cedere il mobile un anno fa, subito, immediatamente, non l'hai fatto, ti sei tenuto un giocatore scontento al quale per regalargli il sorrisino gli hai dovuto pure dall'aumento del contratto, del stipendio, oltre a dagli il rinnovo. Chiaramente all'interno dello spogliatoio è passato il messaggio che se tu vai in società piagni ti accontentano e in quel di Auronzo Dicatore cominciano le lagne di un altro bambino viziato un altro bambino viziato della Lazio che sono strafelice di essermi torto dai coglioni che risponde al nome di Luisa Alberto che se finge malato si butta nella palestra a fare semplici blandi allenamenti e finché la società non gli dà un rinnovo con un aumento di contratto il bambino viziato non si allena e la Lazio che fa? anche in questo caso accontenta il suo bambino viziato e gli dà e gli dà l'aumento altro messaggio sbagliato all'interno dello spogliatoio da lì succede che Sarri ha un chiaro messaggio un doppio chiaro messaggio dalla società ad Auronzo Dicatore non ce sta nessuno Sarri che poi ammetterà di aver sbagliato a non dare dimissioni in quel periodo viene abbandonato Sarri deve gestire sia le situazioni di campo che è sua competenza sia le situazioni extracampo che non è per un cazzo sua competenza ok? Sarri viene messo all'angolo viene tolto di potere e lo spogliatoio di bimbi minchia viziati della Lazio se ne accorge subito di sta cosa e si divora l'allenatore Sarri inizia la stagione scorsa da separato in casa Sarri da gran signore a differenza di quelli che molti di voi pensano dichiarerà poi di aver sbagliato di sentirsi colpevole della stagione falimentare dell'anno scorso perché quel suo malumore dovuto anche al fatto che lui chiedeva dei giocatori e poi la Lazio non gli ha presi proprio per niente quel suo malumore involontariamente lo ha trasmesso alla squadra che poi già malata da questi precedenti di cui vi ho parlato poco fa a stretto giro si è lasciata andare nasce da questi presupposti una stagione falimentare che viene salvata per il rotto della cuffia andandoti a guadagnare grazie al settimo posto e al ranking dell'Italia in Europa l'Europa League perché sennò tu quest'anno stavi in Conference League comunque arrivi in Europa League e in qualche modo al termine di una stagione imbarazzante la porti a termine attenti perché a marzo Sarri dà le dimissioni quel maledetto 13 marzo del 2024 e lo dico quel maledetto 13 marzo del 2024 perché lo ribadisco oggi mi farò una marea di nemici ma non me ne frega un cazzo eh Sarri era la nostra liberazione era l'unica nostra ancora di salvezza Sarri era l'unico allenatore ambizioso l'unico uomo ambizioso all'interno della Lazio che davvero voleva bene alla Lazio e avrebbe voluto una crescita Sarri se ne va e la Lazio che fa? io ero contrario ve l'ho detto e la Lazio prende Tudor il sergente di ferro Tudor per prendere allegnata i giocatori dagli in addrizzata e portarli a un obiettivo minimo la Lazio di Tudor nemmeno va male anche questo ve lo dimostrate in un video la Lazio di Tudor ha un'ottima media punti quasi da Champions e arriva quasi a sperare se non fosse per quella scellerata partita di Monza di poter riagganciare il treno della Champions soprattutto sperando nel quinto posto Champions cosa che poi purtroppo non è accaduta no? scusate nel sesto posto Champions scusate perché c'è stato un attimo in cui la Lazio avrebbe lì scusate l'Italia avrebbe potuto portare talmente era messa bene anche sei squadre in Champions finisce il campionato Tudor si sente al centro del progetto ma un po' come noi tifosi della Lazio non si rende conto che lo stavano prendendo per il culo così Tudor finisce il campionato chiede un incontro alla società se ne vanno a cena fuori in un notissimo ristorante vicino a Formello e Tudor dice voglio che mi smantellate questa rosa attenti perché questo passaggio è cruciale voglio che mi smantellate questa rosa mandatevi a tutti ricominciamo da zero prendiamo giocatori modesti come prezzo sul quale io vi garantisco che posso costruire qualcosa di buono ribadisco a me Tudor non mi è mai piaciuto mi ha sempre fatto schifo come allenatore però i suoi progetti ce li aveva la Lazio si è affidata a Tudor per un progetto a medio lungo termine caro direttore sportivo Fabiani che tu stesso hai detto quando è entrato Tudor Tudor dopo tre mesi in cui si è guadagnato ancora più credibilità per quello che ha fatto alla guida della Lazio crede di avere giustamente di essere di essersi messo per meriti lavorativi nelle condizioni di andare da Fabiani e dall'unito e dirgli voglio ricostruire questa squadra a quel punto c'è il momento di rottura perché l'esempio di Immobile l'esempio di Luis Alberto perché a quel punto un certo Gendosi che non si è mai preso con Tudor a differenza di quello che io vi raccontai erroneamente quindi vi dissi una cazzata ecco a dirlo Gendosi sente puzzato e bruciato e comincia a sentire che davvero Tudor può rimanere e Gendosi da bimbo minchia viziato comincia a andare dalla società e gli dice attenti io ve lo dico se rimane Tudor e puntate su Tudor io me ne vado vogliono via ve lo dico subito e la Lazio che si era affidata a Tudor e aveva detto di puntare su Tudor per un progetto a meglio lungo termine due o tre anni nel momento in cui Tudor dice che vuole smantellare la rosa e che il primo da cedere perché non adatto al suo modo di giocare è Gendosi se sente di dalla Lazio e no Gendosi no poi da via su Gendosi lo abbiamo riscattato ci puntiamo noi su Gendosi anzi Gendosi deve stare al centro del progetto a quel punto Tudor dice alla società lo dito Fabiani fatemi capire una cosa ma chi cazzo è l'allenatore della Lazio io o voi per quale motivo puntate su di me se puntate su di me io vi dico che Gendosi non lo voglio quindi per favore liberatemi da Gendosi e da tanti altri giocatori che a me non servono a quel punto la Lazio ribadisce a Gendosi e dice no no Gendosi non si vende Gendosi te lo fa andare bene e a quel punto Tudor con tutti i pro e tutti i contro che può avere da signore gli dice alla Lazio lo sapete che c'è se so questi presupposti ciao belli in questo mare dei matti in questa gabbia dei matti invece lascio a voi preferisco andarmene via e rimanere senza lavoro perché io alle vostre condizioni non ce sto se pretendete di essere anche gli allenatori andatevi a prendere un signor si una statuina da mettere lì come figura di allenatore che gli sta bene tutto ma io non so fatto così ciao belli e così dopo tre mesi finisce va proprio alla malora il la gestione Tudor questa è la Lazio amici miei a quel punto io potete andare a vedere lo storico del dei video io chiedo da tifoso nel mio piccolo alla Lazio di muoversi a trovare un nuovo allenatore ma soprattutto di fare un mercato intelligente io non ho mai chiesto alla Lazio di comprare campioni intelligente e io ne siete testimoni e adesso nei commenti voglio che distruggete nei commenti mettete una marea di commenti identici perché ne siete testimoni vi dissi chiaramente ragazzi indipendentemente dal l'allenatore che viene e avevo avuto delle indicazioni che ora vi dico ho condiviso già con voi non ci aspettiamo chissà che cosa dimentichiamoci il mercato degli ipotetici Berardi degli ipotetici Milik degli ipotetici Zelischi questi erano i giocatori dei quali si parlava l'anno scorso che voleva Sarri lo step di crescita no? dimentichiamoci di quella cosa quest'anno la Lazio prenderà tutti i giocatorini da 8 10 12 massimo 15 milioni d'euro questi prenderà vi avevo messo in guardia ne siete testimoni e adesso lo scrivete la cosa più allarmante di tutto questo è che a me ancora prima dell'arrivo del nuovo allenatore mi giungevano voci da Salerno che la Lazio aveva in pugno scusate per umori di fondo ragazzi la Lazio aveva in pugno di A la Lazio aveva già bloccato di A ancora prima di prendere il nuovo allenatore e questo è l'indizio allarmante che io ebbi uno più uno fa due a casa mia non fa quattro ossia che se la Lazio già comincia a bloccare i giocatori ancora prima di scegliere l'allenatore vuol dire che la Lazio intende farlo lei il mercato è la conferma che la Lazio vuole un signor sì uno al quale al quale scusate vada bene ogni scelta tecnica fatta e da lì nasce la mia provocazione che provocazione non è quando io cominciai a dire a metà maggio fine maggio ragazzi alla Lazio non verrà un allenatore alla Lazio verrà un commissario tecnico una figura messa lì che allena i giocatori che gli vengono messi a disposizione dalla società perché il mercato lo fa la società e in questa ottica la Lazio che fa vengono associati affiancati alla Lazio tanti nomi di allenatori ai quali io non ho mai creduto finché la Lazio va dalle società amiche e la Lazio non ha come società amiche quelle che potrebbero stuzzicarla per crescere nelle ambizioni Juve Milan Inter Atalanta Napoli no le società amiche della Lazio si chiamano Salernitana e si chiamano Verona queste sono le società amiche della Lazio e così Lotito nemmeno Fabiani chiama l'amichetto suo Setti e gli dice senti un po' me lo dai baroni me lo liberi se ti dice guarda c'è un accordo di baroni ha voluto una clausola nel contratto all'interno della quale se gli capitano offerte da squadre di ranking superiore rispetto alla mia si può liberare io so disponibile a darti i baroni ma a te amico mio Lotito mi aiuti in un altro modo Lotito gli dice in che modo ti aiuto a me mi serve entro fine giugno ti sistemai bilanci prenditi Noslin a 10-15 milioni d'euro e mi sistemi i bilanci così mi dai una mano un po' come hai fatto con Cancellieri tre anni fa a sistemare i bilanci tu mi aiuti in un modo io ti aiuto in un altro e Lotito già lì dice va bene ancora prima di scegliere Baroni ma Lotito sapeva che Noslin sarebbe andato bene a Baroni era un titolare inamo vibre del suo Verona e arriva Baroni alla Lazio a tal proposito mi prendo una piccola rivincita perché quando vi feci il video illustrativo di Baroni io ve lo presentai come un allenatore che di base parte dal 4-3-3 e qualche fenomeno di turno che mi auguro sia collegato anche adesso mi scrisse in privato dicendo da manno ma sei proprio un coglione non ci capisci un cazzo di calcio ma che stai a dire ma te lo vuoi studiare l'allenatore prima di parlarne a scemo a stupido perché sono questi i toni dei messaggi che ho ricevuto all'epoca a stupido ti vuoi documentare Baroni non giocherà mai col 4-3-3 hai fatto un video di mezz'ora 40 minuti l'hai presentato col 4-3-3 vatta a fare una statistica Baroni giocherà col 4-2-3-1 mi sono preso gli insulti anche se c'è modo e modo di porsi magari la prossima volta caro deficiente cerca di porti in maniera più educata perché oggi riportando le tue parole ti sto facendo fare una figura doppia di merda no? e quindi potevo fare anche nome e cognome tuo perché mi sono salvato tutti i messaggi e anche le mezze minacce che mi hai mandato e vi faccio una premessa sono uno che dei minacce ne riceve una marea tutti i giorni e me le faccio scivola addosso ma fatta sta piccola premessa faccio un video pensate quanto so corretto perché mi reputo una persona profondamente corretta faccio un video qualche giorno dopo aver ricevuto questi commenti da questi fenomeni in cui effettivamente certifico che lo schema maggiormente utilizzato da Baroni ragazzi il canale c'ha i video c'ha i video là potete ne andate a vederli siete tutti testimoni eh in cui effettivamente faccio una statistica su quali schemi ha usato principalmente Baroni nel corso della passata stagione e di certo il 433 non è lo schema che ha usato di più di tutti Baroni ha usato 4 anche 5 schemi vado un po' a memoria ma perché? perché Baroni a differenza di Sarri non è un uno che c'ha i paraocchi che va dritto che indipendentemente dalle caratteristiche dei giocatori che allena usa un solo schema Baroni si modula molto e questo per me è un punto a vantaggio dei Baroni si modula molto in base alla rosa che ha a disposizione per scusate la parola per modularla e metterla nelle condizioni di rendere al meglio ma per me Baroni è uno da 433 e guardate un po' il caso a pro da Baroni alla Lazio e col tempo vediamo che Baroni prova la Lazio col 433 vediamo la Lazio esordire in casa col Venezia col 433 vero caro scemo deturno che mi ha minacciato tre mesi fa vediamo la Lazio andare a giocare a Udine in quella scellerata partita di Udine col 433 vero imbecille che mi ha minacciato tre mesi fa ok piccola postilla torniamo indietro devo sempre leggere i step ritorniamo a maggio a maggio c'è gente che si strappa i capelli quando un certo Kamada che è stato in panchina a grattarsi giustamente un po' per colpe sue un po' perché Sarri è proprio uno estremista col suo 433 Kamada non c'entrava una mazza col 433 la Lazio ha preso Kamada perché Kamada rappresentava un'occasione di mercato l'ha preso a zero se ti va bene ti ritrovi 25 milioni d'euro sul mercato da vendere da entrare e ci poteva stare io non bocciai l'operazione Kamada come voi siete buon testimoni ma Kamada non era una richiesta di Sarri Kamada nella Lazio di Sarri non trovava posto lo trovò in Tudor tanto da diventare un titolare inamovibile e tanto da convincere i tifosi della Lazio una stragrande maggioranza i tifosi della Lazio non il sottoscritto di farlo diventare un perno insostituibile anche della Lazio del futuro della Lazio di Tudor però ma Tudor va via cara Lazio che non programmi un cazzo Tudor va via e Kamada una volta che gli elevi la certezza della sua titolarità legata al tecnico che lo sta rilanciando Tudor Kamada decide di non far valere la sua opzione di rinnovo con la Lazio e bye bye se ne va e la Lazio si ritrova con Baroni e col cerino in mano è qui che esplode con l'arrivo di Baroni ma in concomitanza dell'arrivo di Baroni non è per colpa di Baroni che noi tifosi della Lazio in maniera molto intelligente abbiamo sempre tutelato e continueremo a tutelare la protesta del tifoso laziale esplode il malumore perché ci si rende conto che si sta sgretolando la Lazio andiamo a fine maggio quando il nostro DS che risponde al nome di Fabiani Angelo Fabiani interviene in radio dall'amico Guido De Angelis e riporta le sue virgolettate parole non prenderemo più giocatori trentenni ultra trentenni se non perché c'è da ringiovanire l'età media della Lazio se non per occasioni legate a grandi top player nel finale della loro carriera che magari decidono di rimettersi in discussione ok siamo ai primi di giugno e comincia nuovamente a risuonare ridondante il nome di Greenwood perché dico nuovamente perché in realtà la Lazio ci aveva visto pure bene e quello sì che era un giocatore per Sarri quando Sarri gli chiese Berardi che io ve lo dico anche oggi fui felicissimo del suo non arrivo alla Lazio e poi ahimè ahimè perché io non so tifoso dei miei pensieri io dico Lazio la stagione ha dimostrato che la Lazio fece bene a non prendere Berardi la Lazio però propose a Sarri perché non proviamo a rilanciare Greenwood Sarri non disse di no e la Lazio con la sua grande programmazione che fa in fretta e furia nell'ultimo giorno di mercato dell'anno scorso prova di imbastire col Manchester United una trattativa per l'acquisto di Greenwood da prendere a due soldi Manchester già ve l'ho raccontato fortemente pressato in Inghilterra per liberarsi del giocatore per le sue storie familiari del quale abbiamo ampiamente parlato il Manchester prestito con diritto di riscatto a una cifra molto vicina ai 25 milioni d'euro ma quando tu imbastisci una trattativa nell'ultimo giorno di mercato negli ultimi istanti tu devi essere consapevole anche perché c'hai uno storico dei vent'anni dietro in cui di figure di merda ne ha fatte a tonnellate di trattative saltate per famoso fax incastrato a mail sbagliata perché Costi non fu preso per una mail sbagliata inviata dalla Lazio una PEC sbagliata inviata dalla Lazio all'Entrac tanto per dirvene una dopo uno storico sei rimasto scottato Greenwood non lo fa all'ultimo giorno fallo quantomeno 3-4 giorni prima dove c'hai un margine di tempo dove puoi riparare le tue stronzate le tue superficialità la trattativa col Manchester è rechiusa ma per un discorso guarda un po' te di tempistica la Lazio firma i contratti di Greenwood all'accordo con Greenwood manda tutto al Manchester tramite PEC che deve sottoscrivere questi contratti per rimandarli indietro alla Lazio e poi sia Lazio che Manchester devono depositarli alle rispettive leghe che a loro volta le devono comunicare alla UEFA vi rendete conto che ci stai strettissimo ci può stare che nell'ultima giornata di mercato qualche cosa si intoppa vero Lazio? ma siccome la Lazio ha la memoria del moscerino non ha considerato questo la strafottente Lazio ha detto ma che te pare che con noi succedono ste cose e salta l'arrivo di un crack clamoroso come Greenwood sì da ricostruire ma che sulle sue situazioni sulle sue garanzie tecniche c'è ben poco da scommettere questa è una certezza ebbene il Manchester non fa in tempo a firmare le pecche a rimandarle indietro e salta Greenwood la Lazio rimane scottata Greenwood si rilancia alla grande Spagna la Lazio continua a seguirlo d'accordo con Sarri che a gennaio del 25 scusate del 24 era ancora pienamente al centro del progetto Lazio c'era il benestare di Sarri su Greenwood cosicché la Lazio dice cominciamo a gettare le basi per prendere Greenwood a giugno ok Manchester si può fare? sì la Lazio già a gennaio ha l'accordo in tasca anche con Greenwood la Lazio ha già un accordo in tasca con Greenwood per un quinquennale da 3 milioni e mezzo che più bonus va a finire a 4 milioni a stagione Greenwood continua a fare una grande stagione in Spagna e ha ben altro peso provare a prendere Greenwood a giugno di quest'anno perché adesso dietro a Greenwood ci stanno anche altre squadre ma anche in questo caso la Lazio fa un mercato arrogante la Lazio si arroga l'idea di dire cioè sono arrivata per prima su Greenwood ho l'accordo con Greenwood e con Manchester già dall'anno scorso mi basta riallacciare i rapporti con Manchester Greenwood me lo porto a casa ma il problema della Lazio qual è? è che la Lazio pronti partenza via commette l'ennesima grande cazzata perché nel mentre è arrivato Baroni da pochi giorni la Lazio dà per scontato che il Manchester il primo luglio ratifichi tutto quello già deciso un anno prima e rafforzato a gennaio ma nel mentre Greenwood si è rilanciato ok? e la Lazio che fa? apre il mercato il primo luglio e non fa un cazzo sul fronte Greenwood attenzione arriva il 2 luglio e non fa un cazzo arriva il 3 luglio e non fa un cazzo arriva il 4 luglio e non fa un cazzo il 5 il 6 il 7 l'8 il 9 il 10 e non fa un cazzo perché la Lazio è sicura che Greenwood è suo ma come diceva il buon Boscov pace all'anima sua non puoi dire catto se non ce l'hai nel sacco anche il buon Trapattoni ripescò questo famoso detto no? la Lazio si dedicava ad altre cose intanto era in trattativa col Verona dell'amico Setti per prendere i nostri in una cifra ragionevole sistemava il bilancio al Verona annunciava a tempo di record degli acquisti ma poi di questo vi parlerò ma pure l'altra fanno mercato in Europa non c'è solo la Lazio in Europa cara Lazio ahimè tu non conti un cazzo nel mercato europeo cara Lazio tu non conti un cazzo Lazio purtroppo fa pure rima ok? e non ti può non puoi permetterti di avere un un ruolo così arrogante nel mercato nemmeno italiano europeo non puoi sentirti al sicuro di avere Greenwood un giocatore pienamente rilanciato che veniva da una stagione meravigliosa fatta in Spagna e che succede? che il mercato lo fanno pure l'altra e il Marsiglia cambia allenatore e arriva De Zerbi e De Zerbi indovinate un po' che cosa dice ai dirigenti francesi? ho un solo obiettivo voglio Greenwood il Marsiglia bussa le porte del Manchester e gli dice voglio Greenwood il Manchester dice al Marsiglia in realtà sto già in parola con la Lazio ho già fatto tutto con la Lazio ma giusto per ascoltarti tu quanto offriresti? il Marsiglia dice no no non funziona così dimmi tu quanto vorresti da Greenwood sei tu che devi fare il prezzo sei tu che vendi il Manchester a quel punto alza giustamente la posta in paglio vede le potenzialità a tutti gli interessi di aumentare di creare un'asta intorno al suo giocatore che è obbligato a cedere per pressioni interne della federazione inglese se crei un'asta intorno al giocatore l'asta è fatta per far lievitare il prezzo e a quel punto il Manchester dice io a meno di 34 37 milioni di euro io non lo vendo i famosi 30 milioni di sterline io non lo vendo e il Marsiglia non si mette paura ma non dice nemmeno di sì lotta per cercare di avere qualche sconto a quel punto il Manchester ribussa la porta della Lazio e gli dice io ho capito che abbiamo un accordo verbale ma qua d'è scritto non abbiamo fatto niente io te sto aspettando dal primo luglio sono passati già 10 giorni io te mi dispiace ma qui cambiano le carte in tavola a me mi ha bussata le porte in Marsiglia e se prima ti potevo dare a te Greenwood a 25 adesso cambiano un po' le carte in tavola qua c'è chi è disposta ad accontentarmi con la mia richiesta e scatta l'asta per Greenwood Calleri è l'incaricato dalla Lazio per gestire la trattativa Greenwood l'entourage di Greenwood conferma di avere l'accordo con la Lazio dice sì alla Lazio ma non dice di no al Marsiglia gli va bene pure il Marsiglia all'entourage di Greenwood quando parlo di entourage parlo soprattutto dei suoi genitori Calleri cerca di tenere allacciati i rapporti tra Lazio Greenwood e Manchester finché la pazienza del Manchester finisce il Marsiglia si avvicina molto all'offerta degli inglesi e la Lazio fa un clamoroso rilancio di mercato e arriva ad offrire 2 milioni in più da 20 a 22 in seguito con la sua indelicatezza vergognosa il presidente Claudio Lotito nel giorno della famosa conferenza stampa vergognosa di Baroni dove purtroppo ai miei Baroni è passato in secondo piano come ben ricordate 20 minuti di presentazione di Baroni e poi un'ora e mezza di conferenza stampa di Lotito che ha dato a pesci in faccia i giornalisti che stavano lì a fare il loro lavoro li ha trattati malissimo li ha offesi con delle parole con dei toni e dei modi vergognosi e da lì esce fuori il fenomeno Lotito che la Lazio non gli interessa più un Greenwood e che sta trattando perché lui con i tifosi con la comunicazione gioca ci prende per il culo un giocatore 10 volte più forte di Greenwood vi dirò pure chi sarà questo giocatore 10 volte più forte perché poi finalmente l'ho scoperto finisce il sogno Greenwood finisce quando noi eravamo ad Auronzo Greenwood va al Marsiglia per la grandissima delusione dei tifosi della Lazio che c'è uno sperato fino alla fine poi Fabiani pomperà ancora di più dicendo che la Lazio in realtà era arrivata fino a 25-27 milioni di euro per Greenwood facendo un'autorete clamorosa perché tu stai dicendo a tutti quanti che la Lazio ha un budget extra da investire pari a 25-27 milioni di euro per prendere un giocatore ennesima toppa di comunicazione ennesima toppa all'insegna dell'improvvisazione della superficialità caro Fabiani caro Fabiani che ti vanti sulla tua radio dove vige il proprio il non mi viene la parola volevo dire una parola grave non mi viene porca vacca vige il il diktat della società no? che te pompi del fatto che tu stai in questo campo da 30 anni che so 30 anni che fai il direttore sportivo così che so 30 anni di squadre di serie B e di Lega Pro pure questo devi dire perché questa è la tua dimensione caro Fabiani è questa la tua dimensione un direttore sportivo da zona retrocessione da serie B e da Lega Pro non di più caro Fabiani e devi dire tutte onore ai tuoi 30 anni di professione nessuno li mette in dubbio ma devi pure vedere che dimensione di professione hai fatto perché se tu fino a oggi fino a prima della Lazio sei stato il direttore sportivo di squadre di serie C e di serie B fate una domanda noi la risposta ce la siamo già data caro Fabiani ok chiusa la parentesi salta Greenwood nel mentre chiudo la bella raccolta fondi lanciata da alcuni di voi la sera di Sassuolo Lazio non lo ricordo ancora stavamo qua la raccolta fondi grazie a delle donazioni importantissime poche come numero ma una di queste molte molto importanti ancora grazie a Giuseppe Alteri che principalmente è stato quello che ci ha messo più di tutti e parliamo di una cifra estremamente importante riusciamo ad andare ad Auronzo di Cadore dove grazie al cielo vi diamo manteniamo la promessa perché io sono abituato a fare questo vi portiamo in giro con noi ad Auronzo di Cadore vi facciamo vivere dal vivo con ore e ore e ore di live fino a mezzanotte l'una di sera il ritiro di Auronzo di Cadore arriviamo ad Auronzo a ora di pranzo io e Fabrizio mangiamo una cosa al volo e andiamo ad assistere il pomeriggio alla prima seduta d'allenamento della Lazio anzi no sto a dinastronzata fermi arriviamo alle 10 del mattino ad Auronzo di Cadore tempo di sistemarci in albergo e io e Fabrizio partiamo subito per il campo dove vi ricordate bene prendiamo l'acqua secchiate tanta di quell'acqua che ci usciva da dentro le scarpe ragazzi da dentro le scarpe ci usciva vi ricordate quella live clamorosa io vedo la mattina quell'allenamento a pranzo io e Fabrizietto ci andiamo a prendere un panino ci riposiamo un po' sfiniti dal viaggio il pomeriggio puntualmente andiamo a vedere l'allenamento della Lazio dove abbiamo il piacere di dare un volto all'amico Mauro Tomassetti che saluto che spesso è stato in diretta lì con noi nostro fedele ascoltatore mi scatta un allarme che mi tengo per me terza allenamento l'indomani seduta mattutina d'allenamento io vi ripeto io non so nessuno è un fenomeno però un po' de calcio c'è mastico per quanto mi riguarda credo di capirci qualcosa di calcio ok? per tanti motivi per i miei trascorsi perché per tante cose a me al terzo allenamento che vedo mi scatta l'allarme un allarme purtroppo certificato dai fatti un allarme che anche un po' violentandomi tengo per me nelle prime due live ma che a partire dalla terza live io devo lanciare e così sto poro scemo sto poro deficiente lancia un allarme ragazzi questa Lazio tecnicamente fa cacare ribadisco il concetto questa Lazio tecnicamente fa cacare è terra terra come fai a dire certe cose ma ragazzi senza scendere nel dettaglio dei nomi quando un calciatore professionista che quindi viene da anni di scuola calcio viene da anni di preparazione di allenamento e quant'altro per fare uno stop che devi fare per forza le cose con tocco solo ma te ce ne vogliono invece due o tre quando un terzino va sul fondo e su dieci cross te ne manda dieci in fallo di fondo anzi no in fallo laterale dall'altra parte sia da destra che da sinistra quando ti rendi conto che nessuno è in grado di portare la palla avanti non devi essere un fenomeno del calcio per lanciare certi allarmi e il tempo giorno dopo giorno ora dopo ora piano 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 pure i giornalisti che stavano là che fino ad allora non avevano detto un cazzo di questa situazione cominciano piano 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 a dire oh fermi un po' oh sta Lazio farite cioè sta Lazio tecnicamente è terra terra oh sono andati via tutti Felipe Anderson Luiz Alberto se ne è andata via gente che amata comunque tecnicamente che potevi dire ah immobile tecnicamente era zero cioè qua rischiamo cioè sta Lazio è imbarazzante tecnicamente e anche i giornalisti cominciano a lanciare l'allarme poi anche i tifosi da casa cominciano a vedere i primi collegamenti con la tv le prime amichevoli Lazio-Auronzo per rendersi conto l'evidenza di questa bassezza tecnica della Lazio l'evidenza di questa bassezza tecnica della Lazio e Baroni un po' colpevolmente cambia strategia Baroni in continuo contatto con Fabiani che fa? dice vi ho chiesto un esterno sinistro me lo prendete? a Lazio dice no per noi serve un attaccante non serve un esterno sinistro Baroni si ignorsi vabbè ma qui mi servo regista perché qua a livello tecnico non mi danno garanzie non mi dà garanzie Rovella ma neanche Cataldi Cataldi che ha fatto un pessimo ritiro però l'argomento Cataldi poi ne parleremo e la Lazio dice va bene proveremo a prendere il regista questa cosa accade due settimane fa mi dispiace colpevolmente Baroni che è un allenatore di professione non ti puoi accorgere solo due settimane fa sia te che la società che a sta Lazio manca uno dei piatti boni un palleggiatore ma non in orizzontale come fa Rovella in verticale come faceva Luis non puoi non puoi accorgertene solamente due settimane fa perché c'è qualcosa che non torna ma rifacciamo un passo indietro perché poi mi faccio prendere alcuni dettagli e perdo la cronologia dei fatti torniamo indietro quando vivi un ritiro quindi a me già era scattato avevi perso Greenwood è stato un ritiro bellissimo per i tifosi pessimo sotto tutti gli altri punti di vista quando vai in ritiro tu hai anche il sentore dell'aria che si respira io vedevo Cataldi con la testa fra i nure in allenamento Cataldi ha fatto un ritiro vergognoso non c'è stava con la testa finché una mattina in uno dei tanti live della mattina degli allenamenti io una mattina sto poro scemo una mattina lancia l'allarme e dice attenzione perché se la Lazio società sta epurando scusate se uso questo termine forte lo spogliatoio marcio e viziato dell'anno scorso ha tolto Immobile ha tolto Luiz Alberto Felipe è l'unico che se è andato tra virgolette da pulito per una decisione familiare sua personale cerca di pulire tutto io vi dissi attenti perché secondo me se si vuole far passare il messaggio che all'interno dello spogliatoio della Lazio adesso sono tutti felici sorridono tutti e sono tutti contenti è una cazzata secondo sto scemo se nei prossimi giorni o nelle prossime settimane scoppia qualche altro caso non ne rimarrei sorpreso e secondo me in una specifica notte è successo qualcosa perché improvvisamente dall'oggi al domani Danilo Cataldi non è più rientrato nei piani della Lazio Cataldi che fino a quel giorno prima s'allenava in alternanza con Corrovella nel ruolo davanti alla difesa era al centro del progetto tecnico di Baroni l'indomani improvvisamente Cataldi uff ce sta più ce sta più viene relegato proprio ai margini te ne accorgi dai gruppetti di lavoro sul campo Zandeggiacomo che Cataldi non fa più parte da alcuni gruppi del gruppo tra virgolette dei titolari era evidente che davvero ve sto a parlare della notte ragazzi dall'oggi al domani è cambiato qualche cosa e io mi auguro che sia la società che Cataldi un giorno ci raccontino la verità di quello che è successo perché il Laziale il tifoso ha diritto di sapere io ero sicuro che Cataldi sarebbe andato via e io vado contro Corrente io sono contento che Cataldi sia andato via perché a me Cataldi non è mai piaciuto come giocatore ma mi fermo qua sino poi c'è rischio di essere frainteso e alla fine di questo video capirete perché mi fermo qui nel mentre la Lazio va in ritiro bel ritiro che vi abbiamo raccontato ritorniamo e quant'altro io la butto là e tiro fuori un nome Lazio visto che trapelava dalla società il fatto che la Lazio se ne fregava delle richieste dell'esterno sinistro il vice Zaccagni ma voleva un attaccante visto che Nosdin non convinceva e ve l'ho detto pur io vedendolo dar vivo che Nosdin non poteva far l'attaccante titolare di questa Lazio fece il nome di Bazzar giocatore che con 3-4 milioni ti poteva portare a casa giovanissimo vent'anni stati titolare e Bazzar alle sue spalle Nosdin arretra lo suo trequarto questo io lo dicevo un mese e mezzo fa a Lazio ci è arrivato a mese e mezzo dopo niente Bazzar va da un'altra parte per due spicci scoppia il caso Sardo sto Sardo molto pompato dalla stampa da me giudicato in maniera forse troppo superficiale in maniera negativa tant'è vero che un giornalista mi contattò in privato ve l'ho raccontata sta storia dicendo ma non è sta buono perché con Sardo ci stai andà giù pesante ma sbagli perché è davvero forte forte la Lazio gli propone il contratto d'apprendistato Sardo lo prende come una mancanza di fiducia giustamente Lazio è insensibile per non spendere 200 mila euro si fa scappare uno dei migliori prodotti della scorsa primavera Sardo che oggi gioca in Germania nel mentre la Lazio fa sapere a Petro che al quale è dato il coltello dalla parte del manico perché a Petro tu quando gli hai proposto l'ultimo rinnovo gli ha detto se giochi un minimo dei partiti decidi tu se rinnovare per un altro anno in meno a 2 milioni all'anno Netti Petro rinnova subito la Lazio si rende conto della cazzata l'ennesima e dice a Petro guarda che per noi sei un esubero per favore interrompiamo il rapporto trovate un'altra squadra e Petro dice io resto qua mi hai dato st'opportunità ho rinnovato il contratto è un mio diritto avere un contratto ancora per un anno e Petro diventa un peso a livello di ingaggio ricordatevi quello che ho detto a iniziare sto video e boom diventa un peso nel mentre diventa un peso anche un altro giocatore scherzissimo che a suo tempo è stato utile per Sarri io sai tanti dicono 2-8 netti all'anno a me mi risulta che prenda 2-2 ma comunque 2-2 più 2 fa 4-2 dei giocatori fuori lista fuori dalla Lazio dal progetto e secondo voi la Lazio se può permettere di tenere fuori 4 milioni e 2 fermi fuori squadra la Lazio passano i giorni passano le settimane dimostra di essere sempre più incapace e si incarta intanto la Lazio fa giochetti di pressione sto facendo un po' salto avanti e indietro ragazzi eh comincia a fare tramite comunicazione a fare dei giochetti di pressione tramite lo dito la famosa conferenza stampa su Immobile Immobile inizialmente non ci casca così come Cataldi che inizialmente non ci pensava proprio a lasciare a Lazio però poi si rompe pure un po' le palle di essere messo all'angolo e Immobile se ne va giustamente dico io perché tutti le vedo vede Immobile tutti a elogiare Immobile sta a fare gol a grappoli a suon di doppiette Immobile trascina il Besiktas nella conquista della Supercoppa Turca sta giocando in Turchia a un livello assolutamente molto più basso di quello italiano quando il Besiktas vince 5 a 1 e la doppietta d'Immobile è inutile vogliamo dirle tutte l'altro ieri il Besiktas ha vinto 5 a 1 se non sbaglio in Coppa Immobile ha fatto un'altra doppietta ma il Besiktas sarebbe passato anche senza i due gol d'Immobile la vogliamo dire tutta a livello numerico Immobile si ha segnato tanto fare 4 o 5 gol sta segnando sta rispettando le sue medie però non facciamo passare il messaggio d'Immobile decisivo che trascina no il Besiktas avrebbe vinto la Supercoppa e la partita di qualificazione in Europa League anche senza Immobile poi nessuno toglie le cose bellissime che Immobile sta facendo ma di base io sono contento che Immobile è andato via perché non era più adatto al calcio italiano e alla Lazio nel mentre a sto punto devo pensare pure assolutamente ma noi laziali non ci dobbiamo cadere viene fuori il discorso del Flaminio viene fuori il discorso che magari può avere l'intento di distrarre l'opinione pubblica del tifoso della Lazio damo io pure uno zuccherino mentre ci facciamo i cazzi nostri nel mercato il Flaminio c'è l'incontro e quant'altro e io ve lancio un'allarme e vi dico anche in quel caso non credete allo specchietto per le allodole perché seppure si dovesse fare il Flaminio amici miei prima dai 6-7 anni noi non ci mettiamo piede in quello stadio apro e chiudo parenti nel mentre nel corso di questi due mesi folli di Lazio la Lazio prova a trattare Cabal dal Verona dall'amico Verona e posso dire qui la colpa ce l'abbiamo noi tifosi laziali che andiamo subito a bollare Cabal perché viene dal Verona e una pippa a me sto Cabal tanta pippa non mi sembra tant'è che un po' per Danilo Cacciaccato e quant'altro Cabal gioca titolare all'inizio della stagione della Juve ed è in assoluto tra i migliori perché poi alla fine Cabal il tanto vituperato Cabal che se lo prende la Juve strappandolo all'Inter altra parentesi chiusa nel mentre la Lazio piazza Maximiano dà via definitivamente Raul Moro qualche soldino entra Marcos Antonio qualche soldino entra ma al mercato io sta qualità continuo a non vederla il 7 luglio vedete il bello della diversità di onde di pensiero all'interno di sto canale la libertà che vigia che è la cosa più bella senza alcun condizionamento il nostro Giuseppe Alteri fa un video in cui se la prende un po' con i tifosi della Lazio e indirettamente anche con i miei malumori e c'è sta questo è il bello in cui dice ad alta voce faccio un riassunto del suo bel video del 7 luglio lasciamoli lavorare in pace intende dire lasciamo lavorare in pace la società poi tiriamo le somme a fine a fine mercato tra l'altro vi annuncio che nei prossimi giorni arriverà anche il video di Giuseppe sul mercato passa luglio e io comincio ad interrogarmi insieme a voi dicendo che quale sarà la dimensione della Lazio alla fine di sto mercato comincio ad avere paura il 9 luglio c'è un passaggio che forse passa troppo sottovoce sto poro coglione che dico sempre quando si parla di calcio mercato se ci si espone bisogna mettere in preventivo che il mercato oggi è una cosa che è bianca domani è nera si fa incontro a brutte figure bisogna avere il coraggio di andare incontro anche a brutte figure il 9 luglio sto scemo vi dice che il Bologna guarda un po' te forse fai sfuggita sta cosa bussa le porte della Lazio per Casale Casale è un pallino di italiano ragazzi il 9 luglio il Bologna offre 4 milioni di prestito oneroso alla Lazio per Casale più 11 di diritto di riscatto che diventa obbligo al raggiungimento di determinate condizioni la Lazio all'epoca il 9 luglio ritiene Casale incedibile e rispedisce al mittente l'offerta del Bologna 9 luglio 3 settimane di luglio altre 3 di agosto mi tengo 3 di agosto Casale parte malissimo ma con lui tutta la difesa della Lazio e Baroni e qua mi dispiace i limiti da allenatore si rende conto solamente una settimana dalla chiusura del mercato che Casale non dà garanzie Casale improvvisamente va sul mercato questa è l'organizzazione della Lazio Casale va sul mercato poi magari i prossimi giorni uscirà fuori che l'ha chiesta lui la cessione non lo so ma resta il fatto che improvvisamente Casale diventa cedibile e la Lazio che è sempre convinta di comandarsi la cosa fa va a bussare alla porta del Bologna e gli dice Bologna è valida ancora l'offerta che mi hai fatto a luglio per Casale i quattro più undici perché potremmo parlarne e il Bologna dice no adesso che ti serve da dare via Casale mi viene incontro io sono ancora disposto a prendere Casale ma no per quelle cifre molte di meno ti posso dare una mionata e mezzo due milioni di prestito oneroso più sette sette e mezzo di riscatto con diritto di riscatto che può diventare un obbligo se è arrivato nuovamente in una qualsiasi coppa a star tranno ma io di più non ti offro la Lazio non dice no al Bologna e dice vabbè aspetta un attimo la Lazio va nel panico se non si era mai filata la priorità dei baroni che era quella di prendere un esterno sinistro vice vice dice Zaccagni la Lazio non si era mai filata nemmeno la richiesta del regista di portare qualità in questa Lazio adesso improvvisamente siamo alle battute conclusie del mercato la priorità della Lazio diventa un difensore perché Casale è da dare via e la Lazio va a pescare dagli scarti perché me ne spiace questo è un dato di fatto del Marsiglia quel Marsiglia che ti ha fregato Greenwood per il quale io non avrei proprio fatto questo motivo trattative la Lazio sta col cappio al collo frutto della sua totale incompetenza e disorganizzazione di mercato fretta e furia la Lazio prende Gigo andando contro a quelle sue stesse dichiarazioni che il DS Fabiani aveva fatto da Guido De Angelis non prenderemo giocatori trentenni o sopra i trent'anni se non per grandi nomi grandi campioni sulla via del tramonto che ci possono dare qualche garanzia atletica per un paio d'anni con tutto il bene che voglio a Gigo non è un campione e con tutto il bene che voglio a Gigo io non non conoscendolo non so sicuro che Gigo sia superiore a Casale io oggi dico andando rischiando anche di andare incontro a una figuraccia che per me era meglio tenesse Casale quanto meno per un discorso di età perché io sono fermamente convinto che il vero Casale è quello del primo anno il vero Casale non può essere quello del secondo anno dove tutti sono andati male io credo in questo quindi per me Casale e Gigo ci abbiamo perso ma già vi ho fatto un video e rappresenta l'ennesima cazzata fatta sul mercato della Lazio nel mentre cade anche l'incendibilità detta tre giorni prima dove Fabiani aveva fatto allusioni chiarissime sull'incendibilità di Isaksen non aveva fatto il nome ma ovviamente si riferiva a lui Fabiani tre giorni prima lo dichiara incendibile tre giorni dopo la Lazio lo ha praticamente venduto al Celtic che fa per venire alla Lazio un'offerta soddisfacente della quale già vi ho parlato in un altro video ma Isaksen dice de no Isaksen è pessimo il ritiro imbarazzante Isaksen lui è catal di te peggiori in assoluto Isaksen dice de no la Lazio è incartata e la verità è che la Lazio è costretta a tenersi Isaksen ed è costretta ahimè a dire no al Celtic nel mentre la Lazio decide di riportare in Oslin improvvisazione totale sulla tre quarti il suo ruolo naturale perché si rende conto che non è un attaccante ragazzo lo scemo l'ha detto due mesi prima e la Lazio porta di A alla Lazio di A bloccato a giugno ancor prima che arrivasse Baroni lo porta alla Lazio sono contentissimo di di A per me il migliore acquisto fatto e gli dice a Baroni ti devi accontentare di nos in la sua batteria dei tre quartisti a difesa l'abbiamo sistemata stiamo a posto e Baroni dice alla Lazio ma scusate a me mi serve uno che porta palla uno buono un palleggiatore in verticale qua non ci abbiamo nessuno a livello tecnico facciamo cagare e la Lazio gli dice questi ci abbiamo e questi defanna bene abbiamo preso Castrovilli se ci dice culo ci abbiamo già il giocatore in casa Baroni sta zitto e muto fa qualche mugugno e se lo fa andare bene arriva la favola James Rodriguez per la quale vi ho sempre detto sto facendo dei salti eh per i quali vi ho sempre detto che non c'è stata mai trattativa e purtroppo tanti di voi ci sono caduti Lazio prendi James prendi ma che voi prende un ex giocatore al quale tuvi da 4 e mezzo per 3 anni ma voi state fuori stiamo senza una lira andiamo a prendere James Rodriguez ma vogliamo pensare un minimo al benedesta Lazio ma che ce facevi con James Rodriguez che ce facevi a brace che ce facevi ragazzi non era quello che ci serviva era l'ennesimo specchietto per le allodole era l'ennesimo favore che qualche giornalista faceva a qualche amico procuratore non era quello il giocatore che ci serviva la Lazio prova per Artur fa qualche tentativo anche nell'ultima battuta di calcio mercato ma Artur dice io prendo 6 milioni a IU e vengo da del Lazio ma quando mai perché la verità dolorosa amici miei è che la Lazio mai come in questa sessione di mercato ha ricevuto una marea di rifiuti dai calciatori la verità amici miei è che adesso sono talmente cascate le maschere talmente tanata la Lazio che adesso alla Lazio non ci vuole venire più nessuno a combattere con quel matto dell'odito non ci vuole venire più nessuno è questa la verità la Lazio è totalmente incartata sul mercato nonostante continui a gonfiare il petto di saper fare tutto lei di dettare lei i tempi ma in realtà la Lazio non fa poco una mazza la Lazio subisce il mercato eppure pesantemente e con lei lo subiamo pure noi poveri tifosi viene un'altra favola ah scemo ma che stai a dire la trattativa Cerchi esiste realmente purtroppo mi dispiace i fatti mi hanno dato ragione la trattativa Cerchi non è mai esistita mai perché la Lazio ha bleffato perché la Lazio ha raccontato un'altra marea di cazzate dicendo che ha rilanciato fino a 25-27 milioni per Greenwood non è vero perché gli ipotetici soldi del bleff Greenwood che io ho tanato due mesi fa e poi ne siete testimoni ce ne sono mai stati e non appena il Lione ha sparato 20 milioni d'euro per Cerchi ah ma non di stronzate ma che ma quale 20 milioni Cerchi con 12-13 te lo porti a casa si 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 20 milioni hanno sparato per Cerchi e la Lazio cagota in mezzo ai gambe è scappata la Lazio aveva altre priorità mentre passavano i giorni di mercato una di queste ve l'ho raccontata all'inizio di questa abbondante ora che ci stiamo facendo compagnia quella di abbattere il monte ingaggi la priorità assoluta della Lazio non era quello che fanno tutte le altre società che tutte le altre società hanno fatto di rinforzare la squadra la priorità della Lazio era quella di abbattere in maniera drastica il monte ingaggi obiettivo centrato un'altra delle ultime priorità della Lazio tramite enormi pressioni fin lì rette bene rifiutate dal giocatore del quale vi sto per parlare era quella di liberarsi di Cataldi e dopo lunghe pressioni nell'ultima giornata di calciomercato arriva l'offerta giusta da parte della Fiorentina la Lazio ha la priorità di liberarsi di Cataldi ma secondo voi la Lazio ha un piano pronto per rimpiazzare numericamente Cataldi ma solo una volta all'una di ieri del 30 agosto che la Lazio ratifica tramite PEC la cessione di Cataldi alla Fiorentina la Lazio ha la pretesa folle di trovare un sostituto con le caratteristiche del regista che vole Baroni in 6 ore e secondo voi la Lazio ha l'abilità di trovare in 6 7 8 ore un sostituto di Cataldi ma quando mai morale della favola chiude il mercato con un flop clamoroso quel mercato ed ecco uno dei casi in cui ci metto la faccia all'inizio del quale io facendo una figura di cacca facendo una figura di merda e stando qui adesso a dirvi che a distanza di due mesi vi ho raccontato una stronzata perché ero convinto però all'epoca di quella stronzata con grande tempismo io vi dissi primo luglio bum 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 la Lazio piazza 3-4 acquisti la Lazio ha fatto così arriva Ciaunà arriva arriva Nosrin arriva Dele Baciru orca vacca raga Auronzo non è mai successo che si presenta una rosa quasi completa e io ho detto oh boni un po' il sognatore scemo ingenuo quello che sta sempre con la testa fra i nuvole io raga fermi pensate quello che vi pare non parliamo della qualità dei giocatori della quale adesso vi parlo a Lazio però qua mi sta dimostrando programmazione ha gettato le basi eh porca vacca Nosrin Dele Baciru c'ha una bum 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 un due tre annunciati subito il primo luglio il ritiro ad Auronzo arriva pure Castrovilli porco Giuda a Lazio porca vacca batte in colpo subito ammazza e andiamo incontro all'ennesima figura di merda che il nostro presidentissimo che io dico sempre farebbe bene a starsene zitto ci fa fare tutto lui è uno di quelli che quando le cose vanno bene ci mette la faccia quando vanno di cacca bub 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 la guota in mezzo di campo e scappa se ne rasconde questo è un atteggiamento vigliacco che attenzione non sto dicendo che lo dito è un vigliacco non mi permetterei mai di fare un'offesa così grave però c'è un atteggiamento che è certificato dai fatti come Castellanos ennesima figura di merda fatta un anno fa dopo il gol all'Atalanta allo stadio olimpico l'ho preso io Castellanos state tutti ricredendovi poi Castellanos fa un campionato medio e avete mai più sentito lo dito vantarsi di Castellanos no siamo quelli che hanno speso più di tutti sul mercato grazie al cazzo lo dito è cominciato molto il mercato fa la prima volta in vita tua hai preso giocatori però pure là ho tanato lo dito perché a me e ho fatto anche qua un video non mi puoi prendere per culo dicendo che sei quello che ha speso più di tutti perché tu nonostante sei quello che ha preso più giocatori di tutti sarebbe stato corretto dire all'epoca te ne hai cacciato una lira se non per gli 8 milioni della clausola recissoria e ve l'ho dimostrato coi fatti finisce il mercato un mercato all'insegna di figure di merda un mercato all'insegna della disorganizzazione più totale un mercato ahimè l'ennesima coltellata al cuore laziale del quale vi ribadisco come ho fatto in apertura di questo video la Lazio è strafelice e contenta dalla società trapela questo quando io oggi mi sarei aspettato che il direttore sportivo Fabiani in pompa magna si fosse presentato davanti le telecamere davanti i microfoni e con una sana autocritica avrebbe detto ho fatto un mercato di merda per quelle che sono le poche possibilità di questa Lazio di questa società non me la sento ho fatto schifo mi prendo le mie responsabilità e do le dimissioni subito per un mercato ridicolo imbarazzante e a tal proposito mi sono tenuto fermo da una parte un commento di una lucidità inaudita di qualche settimana fa questi sono i telespettatori di qualità che sono felice di avere all'interno del nostro canale della nostra community che adesso vi vado a leggere per poi ritornare vai Manuel ti faccio un'osservazione mettendo a paragone il nostro mercato con quello delle nostre competitor esce fuori un dato inesorabile siamo quelli che hanno perso più asset quelli che hanno speso meno quelli che hanno incassato meno dalle cessioni chi sa di calcio sa che questa sessione di mercato ha solcato inesorabilmente sia un ridimensionamento che un distacco importante dalle big premesso che non sono un tifoso pessimista e disfattista credo che purtroppo questo sia l'inizio della fine non credo mai in una Lazio che in prospettiva diventerà da zona retrocessione ma sono convinto che nei prossimi anni saremo la classica squadra da metà classifica senza ambizione e senza pretese il duolo dito Fabiani ha praticamente distrutto dalla partenza di Milinkoic ad oggi tutto quello che con fatica si era creato nel decennio scorso ragazzi è una disamina di una lucidità impressionante tra un po' do il voto a questo mercato della Lazio il mercato della Lazio ha segnato un solco clamoroso tra una parte alta di squadre della serie A che hanno tutte fatto mercato per rinforzare le proprie rose e una società la Lazio che ha fatto di tutto per rinforzare il suo bilancio mettendo in secondo piano quella che dovrebbe essere la priorità di ogni squadra di calcio di ogni gestore di ogni allenatore di ogni direttore sportivo di ogni presidente rinforzare la squadra invece questa è una società che se ne frega altamente dei propri tifosi non gliene frega niente dei propri tifosi di dare una gioia ai propri tifosi non gliene può fregare di meno ed eccoci qua oggi alla vigilia del Lazio Milan ripeto non so quando pubblicherò sto video perché è lunghissimo e richiede tante ore di lavoro spero ancora nel miracolo di riuscire a pubblicarlo oggi pensate che matto che so alla vigilia di Lazio Milan a dare il mio voto al mercato della Lazio che è un quattropieno un mercato all'insegna dell'indecenza all'insegna dell'improvvisazione un mercato pessimo un mercato che è una vera e propria presa per il culo per il tifoso della Lazio un mercato io quando vi parlavo dei miei paure un mese fa mi dovevate capire ormai mi conoscete un po' all'insegna davvero della paura perché adesso io lo so che insieme a me purtroppo c'è un'altra marea di gente che mi segue nella paura e già amici miei perché ho tanta paura farò un video nei prossimi giorni che mi avete chiesto in cui vado a valutare attentamente il mercato di tutte le altre squadre di Serie A e alla fine farò una tabella con i miei voti al mercato della Serie A che in qualche modo andrà a collocare questa Lazio ma io adesso dico che questa Lazio è una Lazio fortemente indebolita è una Lazio da metà classifica è una Lazio che si appresta ad iniziare questa stagione all'insegna della scommessa Nosli della scommessa Ciaunà della scommessa Delebasciro della scommessa Castrovilli fino a concludere alla scommessa Baroni un allenatore che non ha mai allenato una società importante come la Lazio dal pedigree come la Lazio un allenatore che non ha mai allenato squadre che vanno a giocare l'Europa o il terrore della preparazione atletica della Lazio un mercato ve ne ho fatti cinque all'insegna di cinque grandi punti interrogativi un mercato all'interno del quale l'unica certezza si chiama D.A tutti questi devi sperare che ti dica culo devi sperare che almeno tre su cinque ti vadano bene perché se ti vanno bene forse salvi la stagione se ti toppano questi cinque grandi punti interrogativi caro Lotito e caro Fabiano questo rischio enorme al quale vi siete ci avete esposto sono cazzi amari perché io questa Lazio la colloco a metà classifica e attento prendetemi per pessimista fate quello che vuoi fare spero di sbagliare io tra un anno spero di aver vissuto una stagione di gioie e di dire ragazzi il 31 agosto vi ho raccontato una marea di cazzate grazie al cielo ci dobbiamo aggrappare al culo di Lotito ci dobbiamo aggrappare a quel grafico stagionale di Lotito nei suoi vent'anni dopo ogni anno brutto c'è un anno bello quando io ho il terrore che purtroppo quest'anno sia il caso di fare così così questo anno rischia di rappresentare questa stagione rischia di rappresentare una bruttissima tremenda terribile eccezione negativa nella gestione di Lotito dobbiamo appellarci solo al culo di Lotito che gli vada bene pure stavolta perché se non è così la mia paura non è quella di non andare in Europa perché tu se ti va bene salvi la stagione vai in Europa League e io firmerei col sangue oggi per andare in Europa League e stai trovando ragazzi l'obiettivo della Lazio quest'anno è l'Europa League poi parliamo pure di obiettivi tra un po' firmerei col sangue io per andare in Europa League se imbrocchi la stagione negativa e qualcuno di voi ha capito il mio pensiero nelle settimane passate nei commenti che ho visto vuol dire che cominciate a conoscermi quando prendi in bocchi una stagione negativa crolla tutto crollano quelle poche certezze che hai e se non sei abituato a competere a lottare per certe situazioni ti fai male ti fai male malissimo rimani scottatissimo vedi quello che è successo alla Sampdoria qualche anno fa vedi quello che è successo al Sassuolo l'anno scorso non te recuperi più crolli ti arrendi al destino chi vuol capire capisca obiettivi e anche qua c'è un atteggiamento che non posso non definire pigliacco l'Otito in quella famosa conferenza stampa pomposa in cui gridì in maniera vergognosa i giornalisti nel post conferenza a Baroni qualcuno gli fece qualche domanda scomoda all'Otito pochi sono sempre pochi i giornalisti che fanno domande scomode all'Otito lo sapete perché perché se fai una domanda scomoda all'Otito tu non entri più a Formello e questa è gente che lavora pure con la Lazio c'è magna pure c'è campare famiglie l'Otito disse che l'obiettivo della Lazio era migliorare quanto fatto nella precedente stagione il che vuol dire due cose o fare più punti rispetto a quelli che hai fatto con Tudor e Sarri o aumentare il piazzamento da settimo a sesto che va a collimare con un ipotetico obiettivo Europa League io oggi amici miei non ce la vedo la Lazio a lotta per l'Europa League perdonatemi in maniera ancora più bigliacca di recente Fabiani gli è stato chiesto di dire un obiettivo della Lazio quale fosse di dichiararlo Fabiani ha risposto che andando avanti nel corso della stagione ci renderemo conto di quale è l'obiettivo della Lazio grazie al cazzo così sono buoni tutti Baroni così sono buoni tutti Baroni devi avere le palle adesso di dire qual è l'obiettivo della Lazio ti presenti davanti le telecamere devi dichiarare l'obiettivo della Lazio adesso che non vuol dire nascondersi sul fatto vediamo quello che succede nel corso della stagione e poi dichiareremo il nostro obiettivo così sono buoni tutti Barò ci stai a prendere sì Barò perdonatemi Fabiani ci stai prendendo per il culo il tifoso si è stufato di essere preso per il culo caro Fabiani si è stufato siamo diventati lo zerbino d'Italia una società che si fa ridere dietro per come ci poniamo verso la stampa verso la comunicazione per il mercato di merda ridicolo imbarazzante per il non mercato che facciamo lo sanno tutti che non abbiamo una lira in tasca tu bleffi e rilancio Greenwood ma quale rilancio Greenwood ma ci ha preso per coglioni Fabiani ci ha preso per coglioni lo dito basta siete scoperchiati siete finiti siete tanati tanati Folo Ruscio che ha fatto salti a me mi fa pena il poro Michael Laziale spiegatato ha messo da parte la Fiorentina ha messo da parte tutti pur di l'estero pur di nazionale appena convocato il nazionale pensate Folo Ruscio quanto ha rischiato con la sua carriera per la Lazio accordo con la Lazio da una vita la Lazio ha garantito aveva garantito a Folo Ruscio che comunque sarebbe arrivato a Roma Folo Ruscio stava che i valigie pronte ieri ricordate che sto a fare sto video il 31 agosto stava con le valigie pronte ad aspettare la telefonata per imbarcarsi prendere il treno e venire a Roma e coronare il suo sogno di tornare a indossare la maglia da Lazio la Lazio forte di questo solo ieri a ora di pranzo da il via ufficiale alla trattativa con il Napoli perché fino a ieri a pranzo la Lazio forte dell'accordo con Folo Ruscio vedi Greenwood non mi è bastato rimane scottata ha detto intanto abbiamo talmente in pugno che a pranzo mandiamo una pecca al Napoli seguire la trattativa e il Napoli ha detto ma che sta a dire bello mica se solo tu sei il furbo che vuole monetizzare quando vendi possiamo pure essere amici all'OT gli ha detto De Laurentiis a Claudio Claudio siamo pure amici quanto te pare ma mica solo te vuoi monetizzare io voglio un obbligo di riscatto l'OT ti ha detto no io l'obbligo un tuo no io lo prendo in prestito oneroso con diritto di riscatto a certe cifre De Laurentiis gli ha detto Claudio tu da ste recchie non ci senti se vuoi Folo Ruscio a me non mi fega un cazzo che c'hai l'accordo con il giocatore se vuoi Folo Ruscio mi dai 3 milioni di prestito oneroso più 14 di obbligo di riscatto ti posso venire incontro il diritto di riscatto che diventa obbligo se vai in Europa l'OTito ha detto De Laurentiis ma la cosa ancora più comica che è stata spiattellata dal grandissimo Alfredo Petullà ieri è che alle 23 e 13 a 47 minuti dalla chiusura del mercato la Lazio ha richiamato il Napoli facendo la stessa identica offerta per piazza del giocatore prestito con diritto convinta che il Napoli dopo 6 ore 7 ore si fosse un po' più ammorbidito non è che la Lazio ha provato a rilanciare cercando di scardinare un po' le certezze del Napoli ha fatto la stessa identica offerta e il Napoli si è messo a ridere e a quel punto anche il procuratore del giocatore ha detto alla Lazio ma che davvero stai messa così ma tu davvero sei davvero così ridicola imbarazzante che non hai rilanciato in qualche modo a me mi dispiace Foro Ruscio l'hai bruciato rimane a Napoli fuori strada rimane fuori fuori rosa a Napoli e il poro Michael Foro Ruscio rischia di bruciare la carriera facendo sei mesi in anno fermo perché ha litigato aspramente forte della Lazio della sua voglia di andare a Lazio sta rischiando Foro Ruscio di bruciare una carriera e oggi a coronamento di questo mercato folle la Lazio taglierà stasera entro mezzanotte Usai per fare rientrare l'infortunato Gila che da dopo la sosta tornerà a piano regime ma besfugge una cosa forse che la lista europea non è dei 26 giocatori come in Italia è dei 25 e quindi cara Lazio spero tu lo sappia perché a sto punto metto in dubbio tutto per la lista europea devi far fuori pure Pedro Usai e Pedro fuori 4 milioni e 2 netti fermi là tu Lazio che stai attento ai centesimi stai pagando quello che ti meriti caro Lodino stai pagando quello che ti meriti caro Fabiani vi siete incartati avete fatto una figura di merda alla faccia di tutto il mercato non solo italiano ma anche europeo ci ridono dietro tutti e io da tifoso laziale mi sento umiliato da voi perché voi non tutelate la Lazio voi gli annate contro voi sfidate la fede della Lazio col vostro fare niente con la vostra qualità pari a zero da me tifoso laziale vi dico che siete degli autentici incompetenti e questo mercato che voi dove voi già state facendo trapelare voce che siete contentissimi che avete centrati i vostri obiettivi ma quali obiettivi state con le spalle al muro ne avete fatto un cazzo state con le spalle al muro ma quali obiettivi centrati ma de che che avete dato via Cataldi e numericamente nemmeno l'avete rimpiazzato monotifosi siamo disperati già ha cominciato mi fratello con la lista dei giocatori senza contratto cercate a rampicarci e prendere almeno numericamente qualcuno che possa darci una mano ecco come ci avete ridotto ecco come vi siete ridotti mercato da quattro e chiudo come ho cominciato sto video grondo di sudore raga è un'ora e mezza un'ora e quaranta che ho sta maglia di lana addosso e adesso io nel mio piccolo faccio un appello ovviamente non attenetevi a quello che sto a perdire non devi passare il messaggio sbagliato perché quello che sto a perdirvi è un messaggio figurato che dovete immaginare nulla più da oggi a cominciare da Lazio Milan ci mettiamo l'elmetto in testa quello che vi dicevo ieri sera perché quella che sta iniziando sarà una stagione da Laziale da Laziale quelli veri quelli con la corteccia grossa una stagione di sofferenza forse adesso qualcuno quando feci quel video qualche settimana fa della famosa soglia psicologica mia comincia a dire che forse Emanue non tutte queste cazzate diceva forse un po' tutto torna adesso sarà un anno di battaglia a difesa della Lazio e la Lazio amici miei non è chi ci rappresenta in maniera indecorosa a Lazio siamo noi noi tifosi noi che dobbiamo trovare la forza mi sono arrivati certi messaggi da farmi i miei lacrimi agli occhi Manuel ho combattuto con tutto me stesso faccio il riassunto di un messaggio che mi è arrivato ho combattuto con tutto me stesso per far diventare mio nipote Laziale ce l'ho messa tutta ma oggi come si fa ma io come faccio che mi invento che cosa mi invento per trasmettere e rafforzare la mia lazialità al mio nipote De Sert Portano perché la Lazio società non ha a cuore i suoi tifosi la sua gente la Lazio società non fa i conti con un salto generazionale ahimè forse anche bigenerazionale ahimè verso il quale andiamo incontro da questo mercato e torno a quello che ho letto al messaggio lucidissimo che ci ha fatto l'amico prima la Lazio le altre escono così la Lazio esce così è dura e quindi io ce sto io non mi chiamo indietro io sono laziale da 50 anni no dal 2000 che sono stato abituato con lo zuccherino a vincere lo scudetto o essere come maggiore candidata per vincere anche una Champions io ho vissuto anche la Lazio dell'anni 80 inizio anni 80 la Lazio della Serie B io ho la corteccia grossa voi ce l'avete? ecco mettiamoci l'elmetto in testa ogni domenica ogni sabato ogni partita in Europa mettiamoci l'elmetto in testa e prepariamoci a battagliare a difesa della nostra Lazio perché la nostra Lazio amici miei solo noi ci teniamo noi tifosi noi verso la quale abbiamo nutriamo un amore sconsiderato senza interessi anzi la Lazio spesso ci costa fior di quadrini chi in un modo con l'abbonamento allo stadio chi con le trasferte pagando fior di quadrini chi come noi che paga centinaia di euro al mese per abbonarsi a sto schifo delle tv private che ci offrono un servizio schifoso ognuno a modo proprio deve mettere mani nelle proprie tasche e a chi ci avvicino a sé bambini figli nipoti tenete duro ragazzi perché c'è una cosa bella che nessuno potrà mai scalfire nemmeno sta gestione societaria indecente ricordatevi e qui concludo perché a gente andrà per altre ore e vi do appuntamento quindi al prossimo video che ai Laziali la cosa bella è che ci pensano i Laziali e Fabiani non è un Laziale Lotito e il suo figliolo non sono Laziali questa società non è Laziale mercato di merda voto 4 mi avete fatto schifo ciao a tutti grazie 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 a tutti